Buonasera Stefania, da piazza San Benedetto di Norcia, quella che sino a meno di quattro ore fa era inaccessibile perché interamente zona rossa. Oggi è una giornata da non dimenticare per chi abita e conosce questa terra, quella del patrono d'Europa. Mentre vedete alle mie spalle proseguono i lavori anche in questi minuti, quello incessante dei vigili del fuoco per ingabbiare la facciata e proteggerla da future scosse. L'albero di Natale, il presepe, le luci, natalizie illuminano lo spirito di queste feste e lo fanno anche entrare in una città fino a poche ore fa completamente deserta. Ma il lavoro è ancora lungo e il conforto oggi è arrivato per gli sfollati della terremoto. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Valle Marella nelle Marche, precisamente a Porto Recanati e a Porto Sant'Elpidio. Vi sono vicino, così sono le istituzioni a voi vicine che non vi abbandonano e saremo sempre attenti alle vostre esigenze, ha detto. Il nostro impegno non si abbasserà e il prossimo Natale sarà migliore. Il Capo dello Stato torna dunque con il cuore fisicamente tra gli sfollati di questo sisma del centro Italia. Mentre in maniera provocatoria da amatrice il sindaco Pirozzi invita invece i parlamentari di ogni colore politico per una giornata intera ad affiancarlo nelle operazioni dell'emergenza. Ma intanto a pochi giorni del Natale qui qualche regalo è arrivato, anzi più di uno a dire il vero. Oggi è stata una giornata per la città di Norcia costellata da buone notizie e da miracoli della solidarietà. Anzitutto mentre si avvicina, lo ricordiamo, la consegna dei primi moduli abitativi per 48 persone che così si allontaneranno dalle tende. Oggi l'apertura di una porzione del centro storico e di Corso Sertorio. E ancora i miracoli della solidarietà, il primo edificio pubblico definitivo ricostruito dopo la scossa del 30 ottobre che ha frantumato, distrutto la basilica di San Benedetto. Oggi è stata consegnata e sarà destinata alla scuola dell'infanzia. E poi ancora il campo, il centro pastorale che verrà costruito grazie ai fondi della Caritas italiana e sarà intitolato, dedicato a Papa Francesco per ringraziarlo per la vicinanza al dramma che stanno continuando a vivere, le persone che abitano qui. Ebbene, tutto questo lo racconteremo in questo servizio, una giornata per l'appunto storica. La conquista di centinaia di metri quadrati di normalità. Parterà qui e poi la linea andrà allo studio. Norcia si ritaglia un pezzo di futuro. È grande almeno quanto Corso Sertorio e la parte di piazza San Benedetto che i cittadini hanno riconquistato. È festa, ora che a 50 giorni dal sisma è stata riaperta una parte della zona rossa. Non solo ci siamo, ma andiamo avanti. Il terremoto non ci ha piegato e non ci piegheremo. La struttura metallica proteggerà la basilica da future scosse e Norcia tornerà a vivere in almeno 5 esercizi commerciali che riapriranno i battenti. Speriamo che sia un buon segnale in futuro, si vedrà da domani. Quando si esce di casa qui a Norcia si dice vado in piazza, vado a fare una passeggiata per il corso. Ecco, questo è il piccolo regalo di Natale che abbiamo voluto fare alla città. Stamane donata la struttura definitiva destinata alla scuola dell'infanzia, frutto della solidarietà. Cominceremo a consegnare le prime casette e poi il 2017 è per noi già anno di ricostruzione perché le ordinanze del commissario e le risorse stanziate dal governo permetteranno in primo luogo alle attività produttive, alle imprese di poter fare la prima riparazione dei danni. La Madonna delle Grazie resta in briciole. Al suo fianco sorgerà il campo Caritas con l'Emporio della Solidarietà e il centro di comunità inaugurato oggi e intitolato a Papa Francesco. Punto di riferimento, quello che era prima la parrocchia che non c'è più, i locali parrocchiali che non ci sono più e dunque qui con le tende adesso, con il centro di comunità che verrà prossimamente costruito da Caritas Italiana questo diventa il sostituto del centro parrocchiale. Il futuro di speranza riparte da qui.